Musica Cari telespettatori, eccoci ancora insieme per Comuni al Voto. La trasmissione che è offerta al titolo gratuito dal gruppo TV7 Triveneta, questo gruppo editoriale, per far conoscere a tutti quanti voi cittadini quelli che sono i candidati alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno il 26 e 27 maggio. Quindi chi votare come sindaco, per quali ragioni? Ci sono diversi comuni, noi di volta in volta abbiamo invitato i candidati e sono qui presenti. Questa è la volta del comune di Mestrino in provincia di Padova e ben arrivati i nostri ospiti, Simone Dallalibera, Vivi Mestrino, lista civica, grazie di essere qui con noi. Alla mia destra abbiamo invece Flavio Pinton, Movimento 5 Stelle, grazie a lei di essere presente. Abbiamo invitato anche Marco Valerio Pedron, sindaco uscente, per Mestrino Pedron sindaco. Si scusa purtroppo per sopraggiunti motivi personali imprevedibili e imprevisti, non può essere qui presente, comunque ha dato la sua giustificazione. E noi procediamo con chi abbiamo con noi in studio. Quindi potrete seguirli, avranno due minuti di tempo per rispondere a ciascuna delle sette domande che verranno date. L'ultima domanda sarà quella un po' cruciale, perché votare il candidato che dovrà dare la risposta o perché eventualmente non votarlo? A voi naturalmente le considerazioni. Allora, io ho qui due numeri progressivi, li mischio, mischio le mie carte, farò scegliere a ciascuno di loro la carta progressiva e vedremo chi inizierà a rispondere alla prima domanda. Prego, tanto non cambia niente. E di conseguenza, mostrate a favore di camere numeri, quindi 5, perfetto, 5 per quanto riguarda Flavio Pintone, invece 4. Allora incominciamo, numero progressivo, incomincia con Simone Della Libera. Prima domanda riguarda la viabilità, le opere infrastrutturali, quanto può essere costruito edificato, tenendo presente che ci possa essere naturalmente un ambito di azione dato dal patto di stabilità, ovvero un'apertura, come è stato detto e promesso. A fronte di questo, visto che questo libererebbe energia anche per il lavoro, per l'occupazione, per muovere un po' l'economia, che cosa propone per il comune di Mestrino? Via con il tempo. Buonasera. Allora, Mestrino è un comune in provincia di Padova che è situato sul corridoio 5, tra Padova e Vicenza, attraversato da un'ex strada statale, una regionale, e a nord c'è la ferrovia, la Venezia-Milano. Quindi attraversato da una grossa arteria infrastrutturale ferroviaria ed una stradale. Il tema centrale è quello di scaricare dal traffico pesante, soprattutto, questa ex regionale. Come? La nostra idea, che poi segue l'intuizione anche della provincia, è di rafforzare, adeguando opportunamente, la strada pelosa posta a sud del territorio comunale, in maniera tale da realizzare una tangenziale che bypassa il nostro paese. È un'opera che è già nei programmi triennali della provincia, è chiaro che in questo momento le risorse non sono mai sufficienti. Quindi il comune di Mestrino, nel caso in cui la nostra lista fosse chiamata ad amministrare, dovrebbe concorrere a finanziare questo intervento per realizzare questo bypass. Una volta alleggerita la strada statale, si dovrà procedere anche con un intervento di arredo urbano di questa strada, in maniera tale che la strada diventi la piazza vera del paese, in maniera tale che le attività commerciali, la vita sociale e relazionale del nostro territorio si possa sviluppare non più con una camera a gas, all'interno di una camera a gas, ma su un ambiente vivibile. Per quello che riguarda la ferrovia, c'è una stazione ferroviaria nel nostro territorio comunale, non è una grandissima fermata, ma comunque tra le prime dieci stazioni ferroviarie della provincia per traffico passeggeri trasportato. Attraverso la ferrovia si arriva in sette minuti in centro città, viceversa per la strada ordinaria ce ne vogliono 45,50. La ferrovia però è a due chilometri dal centro paese e quindi è necessario mettere in rete in maniera tale che dal centro paese si raggiunga la stazione ferroviaria. Benissimo, la medesima domanda adesso a Flavio Pinton, Movimento 5 Stelle. Il discorso dell'urbanistica è molto semplice, noi puntiamo soprattutto al recupero di quanto è esistente. Il nostro pensiero è che l'edilizia deve ripartire perché se riparte l'edilizia riparte l'intero mondo economico che sta attorno all'edilizia, ma non certamente con nuove costruzioni, non certamente con nuovi quartieri alveari, abitativi, che sono esperienze già vissute nel nostro paese, che non vogliamo, qualora governassimo noi la cittadina di Mestrino, non vogliamo certamente ripetere. Quindi promotori per recuperare quanto è in questo momento in disuso. Per quanto riguarda la viabilità, certamente noi non metteremo i bastoni tra le ruote all'ampliamento di Via Tevere, all'ampliamento di Via Pelosa, che sono già in studio e che consentiranno in qualche modo di risolvere parzialmente il discorso della viabilità della strada regionale 11, quella che taglia Mestrino. Però noi vogliamo portare ed essere promotori anche di un respiro nuovo per quanto riguarda la viabilità. Una recente indagine ha stabilito che una grandissima percentuale di mezzi auto, mezzi auto in particolare, che passano per la regionale 11 in particolar modo quando c'è la congestione, sono mezzi soprattutto di privati cittadini che usano singolarmente il proprio mezzo. Il nuovo respiro che noi vogliamo portare è farci promotore anche di uso degli automezzi intelligente come avviene nel resto d'Europa. Il carpooling, per esempio, le navette che portano alla stazione dei treni di Mestrino, tutto quanto necessario per far sì che da un lato il cittadino possa risparmiare in respiro, in aree che respiriamo, ma possa risparmiare anche in termini di consumo di carburante. Quindi uso intelligente dell'auto, ci sono un sacco di persone che vanno ad esempio a lavorare in zone industriali vicini o a Padova allo stesso orario e tornano magari allo stesso orario però usano singolarmente la propria auto. Questo noi intendiamo poter in qualche modo farci promotore per risolverlo. Perfetto, torniamo adesso a Simone Dallalibera. Parliamo di sociale, parliamo di anziani, parliamo di bambini, quindi di strutture che possono dare un aiuto. È una zona, un paese che si sta sviluppando, si è sviluppato molto dal punto di vista residenziale e quindi per sopperire a tutte le esigenze di una società che comunque invecchia, ma dove ci sono anche fasce deboli, che cosa proponete? Allora è vero che il nostro comune ha avuto negli ultimi anni un incremento di popolazione molto importante. Siamo tra i primi tre comuni con l'età media più giovane rispetto alla provincia, quindi è un comune che è passato rapidamente da 7 a 11 mila abitanti. Popolazione media giovane, quindi la nostra attenzione sarà soprattutto rivolta ai più giovani e ai bambini. In particolare, la cosa strana, nel nostro territorio comunale ad esempio non c'è neppure uno studio medico pediatrico, quindi le famiglie sono costrette ad andare nel comune limitrofo, pensando invece che ci sono 140 bambini per ogni classe di età. Si fa presto a pensare, da 0 a 16 anni, quanti bambini che hanno bisogno del pediatra, ed è sembra assurdo, ma non c'è questo servizio nel nostro territorio comunale. Ci sono 7 medici di base, però non sono ancora in rete, non sono ancora associati. Questo purtroppo è un problema che non consente al paziente di avere una certa continuità assistenziale. Il punto però di eccellenza che noi vorremmo cercare di sviluppare è la realizzazione di un centro di urno per anziani, soprattutto per gli anziani che sono autosufficienti. Ci sono delle strutture, ci sono delle esperienze anche nella città di Padova, penso a casa Michelino, strutture di urne dove l'anziano autosufficiente conduce serenamente la sua giornata con dei servizi di base sanitari, sociali, ma soprattutto può consumare un pasto con dei suoi coetanei, pagando una piccola retta. Credo che questo sia un intervento assolutamente interessante. L'altra attività che noi vogliamo sviluppare di fondamentale importanza è rivolta ai giovani, perché già nell'età delle scuole medie vediamo e notiamo quanto disagio ci sia per i giovani. Durante questi ultimi cinque anni non è stato fatto assolutamente nulla per loro e per le loro famiglie. Quindi al centro i giovani, perché a Messina ne abbiamo veramente tanti. Perfetto, Flavio Pinto, medesima domanda. Via con il tempo. Il nostro programma, che è questo qua, è un sunto di consigli proposti, è il succo di dialoghi continui con i cittadini che abbiamo fatto nel corso di questi mesi che siamo in piazza. Noi siamo con i banchetti in piazza Mestrino dallo scorso settembre. Credo che siamo imbattibili da questo punto di vista come presenza sul territorio. Lo spazio che abbiamo dedicato in questo programma è, in termini di righe, diciamo così, in termini di pagine, Il più grande spazio è dedicato all'aspetto sociale. Quindi potrei citare mille esempi che vanno ad aiutare, dico anche a risolvere, il tema per esempio dei giovani. Noi abbiamo un capitolo di questo programma che si chiama Mestrino, città della cultura e dello spettacolo. Io non sto qui a tediare gli ascoltatori sulle numerosissime idee che noi abbiamo buttato giù e che vanno a dare l'opportunità ai giovani di Mestrino di non uscire di casa alla sera e a recarsi in altre cittadine limitrofe, ma hanno l'obiettivo contrario. Cioè i giovani di Mestrino stanno e riempiono le piazze di Lissaro, di Arlesega che sono morte e quella di Mestrino e magari ricevono anche gli amici di altri paesi. Per le coppie ad esempio abbiamo l'intenzione di farci promotori, le giovane coppie, le giovani mamme, dei nidi famiglia, cose che in questo momento mancano. La legislazione vigente dà molto spazio alla costruzione di questi nidi famiglia, servono veramente poche pratiche burocratiche e la giovane mamma che vuole rientrare nel lavoro ha la possibilità di sistemare in maniera molto veloce tramite associazioni che gli fanno un corso la propria casa, sistema il discorso delle pulizie e della sicurezza, tiene 5 o 6 bambini e altre giovane mamme che sono invece per loro fortuna rientrate nel lavoro non hanno la possibilità di portare i bimbi in questi nidi famiglia. Ma gli esempi sono tanti, vi invito davvero a leggere il nostro programma che è scaricabile sul nostro blog e adesso anche sul comune, sul sito del comune di Mestrino. Perfetto, adesso sempre una domanda che riguarda il sociale, la poniamo a Simone Della Libera poi la medesima anche a Flavio Pinton. Parliamo nuovamente di giovani ma dal punto di vista occupazionale, nel cuore di zone artigianali anche di un certo peso che purtroppo si stanno depauperando e svuotando, l'importanza di trovare lavoro per i giovani diventa vitale per evitare che poi debbano migrare in altre realtà. E allora che cosa si può fare per smuovere un attimo l'economia, per dare delle opportunità ai più giovani ma anche a chi non è più giovane che ha perso il lavoro che comunque converge in questo territorio comunale? Anche nel nostro territorio comunale ci sono sostanzialmente tre zone industriali e produttive e c'è un tessuto anche commerciale importante. In questi ultimi cinque anni l'amministrazione non è riuscita oggettivamente a segnare il passo e a fare iniziative di promozione o del commercio o delle attività produttive. Manca qualsiasi tipo di relazione con queste realtà. Quindi la prima cosa da fare è realizzare effettivamente una consulta delle attività produttive perché le iniziative da fare sul territorio vanno concordate con gli attori del territorio. Manca poi sicuramente, ecco, un impegno importante dobbiamo prenderci in una frazione non c'è la linea veloce, non c'è la DSL e quindi qualsiasi attività ma anche lo studente, anche la piccola attività commerciale ha la necessità di poter lavorare con degli strumenti adeguati. Mestriamo però ha anche una zona agricola di un certo rilievo. Oggi sappiamo che con la crisi che corre qualcuno ci sta pensando seriamente a ritorno anche in agricoltura credo che le opportunità che da un lato la Regione Veneto attraverso i POR dedica ad alcune forme di attività agricole e comunque anche i giovani che effettivamente fanno difficile trovano molte difficoltà nell'avviare una propria strada lavorativa si può anche tentare di ragionare con le attività e le categorie economiche per promuovere agricoltura di qualità in maniera tale che anche questo sbocco occupazionale non sia da scartare. Vediamo nel nostro territorio come in altri territori che molte strutture chiudono, affittasi, vendesi cercheremo in uno di questi spazi di avviare anche un piccolo incubatore di imprese cioè dare la possibilità alle imprese giovani e ai giovani di utilizzare degli spazi minimali, uffici di 30-40 metri con alcuni servizi collettivi in maniera tale che almeno le buone idee e l'innovazione possano passare anche attraverso questi spazi dedicati. Perfetto, Fravin Pinto. Sì, arrivo per secondo quindi non ripeterò alcune cose che sono presenti anche nel nostro programma e quindi mi permetto di aggiungere invece, di integrare perché il nostro programma è ricco e quindi ha la possibilità di poter aggiungere cose a quello che è già stato detto. Pensare innanzitutto che un comune, un municipio possa creare posti di lavoro è promettere cose che non sono mantenibili. Pensare invece che si faccia promotore, che possa essere promotore di strumenti perché queste attività magari possano anche nascere, sì. Nel nostro programma, è un suggerimento sempre dei cittadini, è prevista l'istituzione della Banca delle Attività Commerciali. Un sms solo per spiegare che cos'è. Raccogliere, questo davvero lo può fare il comune, tutto quello che è imprenditoria nel comune di Mestrino, metterlo in rete, dare quindi dei suggerimenti indiretta su cosa manca nel comune di Mestrino, nel territorio di Mestrino e quindi dare, ripeto, dei suggerimenti indiretti a chi ha intraprendenza a fare qualcosa che ancora non c'è e che manca. Ancora nel nostro programma prevediamo una forma di sviluppo economico che rivitalizzi l'economia di Mestrino, metta insieme i cittadini e le realtà economiche del Mestrino e quasi le obblighi o comunque gli incentivi a lavorare insieme. Abbiamo intenzione di promozionare la cosiddetta moneta complementare. Non prendiamo paura, non è una cosa stranissima. I punti dei supermercati è moneta complementare, quindi sono cose già sperimentate in altri paesi esteri, stanno entrando anche in Italia, aiutano ad avvicinare i cittadini mestrinesi con la realtà mestrinese. La banca del tempo, chi ha molto tempo a disposizione, purtroppo non solo tra i giovani, perché il lavoro, perché la Cassa di Grazia, bene la banca del tempo significa mettere a disposizione del proprio tempo, metterlo in rete ancora, usare tutti i canali informatici possibili per poter accedere quindi a queste informazioni e chi ha bisogno da casa di tempo per qualsiasi cosa, trova chi glielo può dare. Perfetto, ritorniamo a Simone Della Libera, parliamo di sicurezza, la domanda che sarà per entrambi naturalmente. Una delle prime problematiche, delle prime paure dei cittadini fino all'altro ieri, prima che fosse la paura del lavoro e di non potersi curare, era quella della sicurezza. Comunque un territorio che ha avuto problemi, ha dei problemi per un certo tipo di residenzialità e di afflussi. Come pensate di risolvere questo per dare maggiori garanzie? Sicurezza in senso lato, che può essere anche sicurezza in ambito stradale, attenzione perché avete un'arteria importante, e ci sono stati incidenti. Via. Quando si parla di sicurezza, la prima cosa che a me viene in mente, lo faccio anche per la formazione professionale, sono ingegnere trasportista, è proprio quello della sicurezza stradale. Ed oggettivamente, se uno guarda anche i fatti, gli incidenti che avvengono nei nostri territori, la maggior parte dei problemi derivano poi effettivamente dai problemi legati alla mobilità. Ma di questo, tutto sommato, abbiamo un po' affrontato il tema all'inizio. Certo ci vuole grande cura anche nel ridisegno delle strade residenziali. In maniera tale, le strade residenziali possono essere utilizzate anche per il gioco. Noi tutti, probabilmente, quando eravamo più giovani, avevamo anche questo approccio con la strada. Era il luogo d'incontro per il gioco con i nostri coetanei. Oggi questo non avviene più. Se alcune zone, alcune strade vengono riqualificate, adeguate, prevedendo delle zone 30 e arredandole opportunamente, possono tornare a questa funzione. Per quel che riguarda la sicurezza, invece, legata ai fatti di criminalità e la sicurezza in casa, sicuramente il tema della sicurezza lo vogliamo affrontare con serietà, almeno per quel che riguarda le attività produttive, con sistemi di videosorveglianza. Cioè, senza dubbio, per vigilare e controllare queste zone, servono i varchi, in qualche modo, controllati con videosorveglianza. È necessario anche ridiscutere la nostra presenza all'interno del consorzio dei vigili urbani, che oggi è condiviso con cinque comuni. L'attuale situazione non ci soddisfa. Il capofila è sostanzialmente selvazzano, ma non è la situazione adeguata per il nostro territorio di Mestrino, quindi rimetteremo in discussione questa nostra appartenenza. Sicuramente affronteremo il tema della sicurezza anche guardando all'altro aspetto. Noi dobbiamo combattere la criminalità, ma dobbiamo anche combattere gli episodi e i fenomeni di povertà, perché se lavoriamo anche in quella direzione, cerchiamo di scardinare i veri motivi che stanno alla base di questi problemi. Quindi il nostro impegno sarà anche per l'applicazione. Mario Pinton. Anche qui un sms per quanto riguarda la sicurezza intesa come sicurezza sul territorio. Sottoscrivo quello che diceva il candidato dalla Libera, in particolar modo sulla posizione che ha Mestrino nei confronti di chi di fatto guida il consorzio della Polizia Locale. Quindi non aggiungo altro, siamo perfettamente d'accordo. Mi invece dilungherò un po' di più su quello che riguarda la sicurezza in merito al fatto, e lo dicevamo un po' all'inizio, che Mestrino deve essere viva, Mestrino alle 9 di sera non deve essere quello che è oggi. Quindi dobbiamo riempire le piazze e fare in modo che Mestrino sia una città dove è bello stare. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, strada statale, ne abbiamo parlato anche questo un po' prima, ci aggiungiamo il fatto che batteremo i pugni sulle spalle, non in faccia, a chi ha responsabilità e che può decidere sullo spostamento delle fermate e delle corriere. Sono in posizioni che vanno cambiate. Per quanto riguarda la sicurezza invece nelle strade interne di Mestrino, è nostra intenzione anche qui promuovere un utilizzo, come si diceva prima, degli automezzi diverso. Partiranno con noi al governo i piedi bus, partiranno i bici bus, partiranno i nonni vigile, in ogni quartiere si rende necessario. Sappiamo c'è tanta voglia di volontariato, c'è tanta voglia di aiutare il prossimo, basta solamente che ci sia qualcuno che la faccia partire. Non deve essere spontanea, può essere spontanea, ma deve essere anche stimolata. E quindi sarà bello vedere i prossimi mesi, quando guideremo Mestrino, sarà bello vedere delle squadrette di bambini guidate da tre o quattro genitori anziani con il giobbotto giallo, che li portano magari dall'uscita della scuola, dove oggi è congestionata da un sacco di auto di genitori, magari che li portano invece a 200 metri dall'uscita della scuola. Perfetto. Alla fermata. Ultima domanda, beh no, ultima, c'erano ancora tre. Allora, cultura, informazione, trasparenza, comunicazione con i cittadini. Cosa si dice al riguardo? Allora, il tema della cultura è sempre il primo ad essere sacrificato quando le risorse sono poche. Questo insomma avviene abbastanza di frequente. Per fortuna sul nostro territorio sono molto attive le associazioni, ne abbiamo ben 53, alcune sportive, alcune culturali, insomma 53 associazioni che animano la nostra comunità, non sono cose da poco, non è cosa da poco. Per fortuna ci sono le parrocchie, che nel nostro territorio svolgono ancora un ruolo molto, molto importante. E per fortuna c'è anche la scuola, che organizza momenti extrascolastici per i ragazzi. Attualmente però tolte queste tre realtà, veramente non resta proprio nulla. Nell'ultimo bilancio dell'amministrazione comunale uscente, le risorse destinate alla cultura, eccetto il dipendente, se togliamo il dipendente della biblioteca, sono state pari a 11 mila euro. Se voi pensate a 11 mila euro per un anno, significa meno di mille euro al mese, significa che non si fa sostanzialmente nulla. Il problema però non sono le risorse, il problema è la volontà di realizzare. Perché in questo lungo periodo, ahimè, non c'è stata una presentazione di un libro, non c'è stato un momento di confronto, non c'è stata un'attività di sensibilizzazione rivolta ai giovani, non c'è stata un'informazione sulle energie rinnovabili. Non sono state fatte mai attività formative e o informative. Quindi credo che la cultura, per carità, ha dovuto anche lei fare i conti con i tagli profondissimi che ci sono stati, però è anche necessario mettere in rete le risorse che ci sono e al Comune aspetta un ruolo di grande coordinamento. Chiudo con una forte necessità. Le infrastrutture attualmente dedicate per queste attività sul territorio sono poche. Noi abbiamo individuato nel polo culturale una delle iniziative che vogliamo realizzare. Come? Con un bando di concorso progettuale rivolto ai giovani e poi andiamo in cerca dei finanziamenti. E voi invece, Flavio Pinton, cosa proponete? Stavo pensando di iniziare questo intervento dicendo che la cultura sociale è il nostro cavallo di battaglia. Poi ho detto che non è il caso di dire questo perché in realtà di cavalli di battaglia in questo programma ne abbiamo parecchi. Però, come si diceva prima, abbiamo dedicato molto spazio a questo aspetto. Finanziamenti che riguardano la cultura sicuramente ci vogliono, ma io continuo a sostenere che ci vogliono soprattutto idee. E noi idee a costo zero ne abbiamo avute parecchie. Noi come gruppo Movimento 5 Stelle. Ma ne abbiamo avute altrettante e molte di più dai cittadini che ci hanno interpellato nei nostri banchetti. Potrei fare tanti esempi. Ne abbiamo davvero tanti nel nostro programma. Potrei dire che sicuramente partiranno mostre, partiranno concerti dal vivo, la biblioteca diventerà itinerante. Metteremo all'interno della biblioteca delle persone che volontariamente leggeranno libri a chi ha voglia di ascoltarli. Faremo partire le sfilate di moda e leggeremo Miss Mestrino. Cito a memoria delle cose che, ripeto, mi vengono in mente. Quasi vorrei leggere per far capire quanto ricco è il programma da questo punto di vista. Un'altra cosa che ci preme sottolineare è che comunque noi queste iniziative le condivideremo sempre con i cittadini e per questo intendiamo anche istituire i consigli comunali ad persona, le abbiamo chiamate. Quindi consigli comunali dedicate a categorie di persone. Chiamiamo in consiglio comunale una sera e lo facciamo a tema, chiamiamo i giovani e chiediamo cosa desiderano fare per arricchire Mestrino dal loro punto di vista. Chiamiamo gli anziani e chiediamo loro cosa è per loro più utile. Quindi al di là di tutte le manifestazioni che noi abbiamo intenzione di creare e che faranno diventare Mestrino una città che accoglie altri cittadini e non che li disperde, con questi consigli comunali riceveremo nuove idee. I consigli comunali e le persone funzionano anche in Italia, sono un successo a Mestrino, funzioneranno con noi al governo. Perfetto, e cominciamo di nuovo Simone Dallalibera. Che cosa cambiereste rispetto alla passata gestione amministrativa? Che cosa invece secondo voi va mantenuto, è positivo? La passata amministrazione ha fatto una scelta radicale che è stata quella di non intervenire. Ma è stata una scelta. Non ha fatto sostanzialmente nulla ed oggi si presenta in campagna elettorale dicendo sono riuscito a pagare una quota di mutui, ho estinto una quota di mutui. Io dedicherò solo su questa domanda, è lo spazio a mia disposizione per far riflettere un po' il cittadino di Mestrino su quello che è avvenuto. Ho in mano con me un estratto del programma triennale delle opere pubbliche che l'amministrazione Pedron ha fatto per il 2011, 2012, 2013. Quindi sono le opere che doveva fare, le aveva iscritte nel proprio programma, poi non è stata capace di fare sostanzialmente nulla di tutte queste, ma adesso le vediamo. non essendo state in grado di realizzare nulla, ha usato questi soldi per far fronte, evidentemente, all'unica cosa che poteva fare a quel punto, pagare i mutui. Le leggo perché i cittadini di Mestrino saranno interessati e curiosi di sapere. Punto numero uno doveva essere realizzato nel 2013. Adeguamento e sistemazione dei parcheggi dei cimiteri comunali di Mestrino e Arlesega. 700 mila euro, non ce n'è pure il progetto. Rettifica via Candeo e ponte stradale su Scolo Storta, 200 mila euro, 2013, non è stato fatto. Pista ciclopedonale tra Lissaro e Arlesega, 700 mila euro, 2012, non ce n'è anche il progetto. Recupero fabbricato ex sede municipale, primo stalcio, 1 milione e 500 mila euro, 2013, non è stato fatto. Sede municipale, miglioramento energetico, serramenti, 150 mila euro, 2012, non fatto. Pista ciclabile Martignan-Cimitero, 250 mila euro, 2012, non fatto. Completamento due scuole elementari di Lissaro, 200 mila euro, 2012, non fatto. Il tempo sta finendo ma l'elenco non è finito. Rotatori e strada regionale 11 via Tevere, era previsto nel 2011, è iniziata e sta per essere conclusa. L'elenco non è finito. Chiarissimo. E adesso invece a lei, Fabio Pinton. Completo l'elenco? No, non mi interessa completare l'elenco. Il Movimento 5 Stelle è alternativo all'attuale sistema di potere, è alternativo alle forze politiche che hanno guidato Mestrino negli ultimi 15-20 anni. Questo modo di respirare e di proporci non mi consente anche per natura personale di affrontare il tema di cosa non è stato fatto e di cosa si poteva fare meglio. Io sono propositivo, invece dirò cosa farò una volta eletto sindaco con i miei candidati consiglieri e con la mia giunta. Tra l'altro vi consiglio anche di andare a vedere chi sono i candidati consiglieri perché esprimono professionalità, esprimono caratteristiche diverse accumulate nel loro lavoro, esprimono varietà anche di localizzazione geografica, sono rappresentanti di Arlesega, di Lissaro, di Mestrino. Faremo tante cose nuove, ne abbiamo parlato poco fa, affronteremo in maniera diversa la guida del Comune e quello che mi preme sottolineare è che qualsiasi decisione che a Mestrino, come giunta, come sindaco prenderemo, verrà condivisa con i cittadini. Gli strumenti tecnologici gratuiti per tutti sono a disposizione. Ci sarà un canale Facebook del Comune di Mestrino, ci sarà un canale Twitter, ci sarà un canale YouTube dove settimanalmente a voce sentirete cosa abbiamo fatto. I consigli comunali non saranno più pseudo segreti come lo sono sino ad oggi, cioè tre persone che vi assistono e si parla del PAT, del PIT, del CIUD e non capisce niente nessuno. I bilanci non saranno più quelli pubblicati nel sito del Comune dove ci sono macro voci e ci sono cifre che non si capisce come poi in realtà i soldi vengono spesi. Sarà tutto visibile, tutto trasparente. Useremo tutta la nostra disposizione perché il cittadino da casa propria semplicemente possa avere tutte le informazioni di quello che accade nel Comune di Mestrino. Il municipio sarà aperto. Perfetto. Ultima domanda, questa volta è libera. Un minuto a testa per avere la risposta e quindi a questo punto ripartiamo naturalmente da Simone della Libera, Vivi Mestrino. Perché i concittadini dovrebbero votarla e perché quindi la sua persona, qui gioca molto sulla persona, sappiamo che il sindaco è la persona con tutta la sua giunta per carità e consiglio più vicina ai cittadini, è un ruolo anche importante. Perché quindi votarla? Un minuto a disposizione a lei, la medesima domanda poi la girerò all'altro candidato. Un minuto anche a lui. Via. Perché la nostra lista civica, pur essendo nuova, ha messo assieme esperienze radicate sul territorio, ha messo assieme competenze molto valide sul territorio, è riuscita a rinnovarsi sostanzialmente completamente. Abbiamo una lista con un'età media di 43 anni, provenienze varie e molto rappresentative del nostro vero tessuto locale. Votarci perché? Perché abbiamo le idee molto chiare, abbiamo visto in maniera molto approfondita quello che va e quello che non va in consiglio comunale, io sono consigliere comunale di minoranza in carica e le nostre idee, le nostre proposte programmatiche sono il frutto di un anno e mezzo di lavoro con le realtà del territorio. Cioè il lavoro che noi abbiamo fatto ha coinvolto circa 60-70 persone e le realtà del territorio. Con un lavoro faticosissimo, lunghissimo, ma i nostri contenuti emergono da questo lavoro. Quindi vivi Mestrini. Flavio Pinton, Movimento 5 Stelle, ma allora perché votare Flavio Pinton? Un minuto. Questa è la domanda più imbarazzante perché noi non abbiamo tessere partito in tasca, non abbiamo alcuna esperienza politica alle spalle e quindi è la prima volta che ci troveremo di fronte alla richiesta di un voto. Di fatto il Movimento 5 Stelle non chiede il voto del cittadino, il Movimento 5 Stelle chiede un ragionamento, chiede un pensiero. Come persona, io alle spalle dal punto di vista professionale ho un paio di esperienze di manager di grandi aziende a livello nazionale, sono stato responsabile del settore tecnico di un'azienda immobiliare che lavorava a Roma, che lavorava a Venezia, ha girato molto, quindi dal punto di vista della guida del Comune non abbiamo alcun problema dal primo minuto in cui saremo eletti. Però ripeto, noi non chiediamo il voto ai cittadini, noi chiediamo un ragionamento. Mestrino due mesi fa ha dato il 30% al Movimento 5 Stelle, quindi Mestrino ha espresso una volontà di cambiamento. Allora io dico ai cittadini di Mestrino, avete una scelta, da una parte chi ha governato Mestrino sino ad oggi, dall'altra chi la governerà. la governeremo noi. Benissimo, ringraziamo quindi, facciamoli in bocca al lupo ai nostri candidati, naturalmente a voi la scelta, sono stati estremamente chiari, pensate, meditate, e naturalmente noi ci troviamo prestissimo per altri comuni al voto. Buon proseguimento. Grazie a tutti.